Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conversazione sulla criptografia. Mi presento prima di tutto, io sono il professor Marco Mezzalama, sono professore merito di sistemi di elaborazione dell'informazione al Politecnico di Torino e sono membro nazionale e anche vice presidente in questo momento dell'Accademia delle Scienze. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di criptografia e dei principi matematici che stanno alla base della stessa. La criptografia nel passato era sostanzialmente utilizzata nell'ambito militare, tuttavia il giorno d'oggi invece è nella vita comune perché quando noi preleviamo da un bancomat usiamo inconsapevolmente degli algoritmi criptografici. Quando paghiamo in rete con una carta di credito adoperiamo algoritmi criptografici. Quando ci colleghiamo alla nostra banca per il cosiddetto home banking adoperiamo algoritmi criptografici. Quando io firmo i registri degli esami al Politecnico adoperiamo algoritmi criptografici. Allora faremo oggi una spazzolata di questo ma ci soffermeremo anche sui principi matematici che sono alla base della criptografia e in particolare sono due come avremo modo di vedere. Il primo è sostanzialmente relativo a certe funzioni che hanno alcune caratteristiche speciali ma ne parliamo tra poco. Il secondo è invece legato fondamentalmente come recita anche il titolo di questa conversazione è legato ai numeri primi o in particolare alla possibilità di fattorizzare, alla difficoltà di fattorizzare un numero primo. Ma vediamo adesso quali sono i principi fondamentali, gli obiettivi direi fondamentali della criptografia. Gli obiettivi fondamentali della criptografia sono come vedete nella slide essenzialmente tre e cioè la riservatezza, cioè garantire che un'informazione non diventi nota a tutti ma soltanto al mittente e al destinatario, l'autenticazione, cioè la possibilità ricevuto un messaggio di avere la certezza che mi è stato mandato proprio da quel signore lì e infine il non ripudio, ossia che io che ho mandato un messaggio non possa disconoscere che l'ho mandato. Queste tre caratteristiche, sono tre caratteristiche fondamentali che al giorno d'oggi servono in tutta una serie di ampi contesti applicativi che lì vedete. Questi contesti applicativi sono lo scambio di chiavi segreti, pagamenti in rete, la firma digitale, la trasmissione sicura e addirittura, pensate pensate, le criptovalute. Non ci sarebbero criptovalute se non ci fossero algoritmi criptografici alla loro base. La criptografia sostanzialmente è basata su alcuni algoritmi, in particolare su quei tre che adesso andate a vedere, e sono gli algoritmi a chiave segreta, che vengono chiamati anche algoritmi simmetrici, gli algoritmi a chiave pubblica, che vengono chiamati anche algoritmi asimmetrici, e gli algoritmi di hash, che sono detti anche algoritmi di impronta in termini italiano, o di digest. Ma cosa fa sostanzialmente la criptografia? La criptografia prende un testo in chiaro, un'informazione, che noi chiamiamo convenzionalmente T, e la converte in un testo cifrato, attraverso un algoritmo ed eventualmente delle chiavi criptografiche. Come vedete, l'algoritmo di cifratura, che lì viene indicato con la lettera E, è un algoritmo che produce il testo cifrato a partire dal testo in chiaro e a partire eventualmente da una chiave. Ovviamente l'algoritmo di decifratura farà la cosa inversa, come si può facilmente vedere. La segretezza, dove sta? La segretezza può stare essenzialmente in due elementi. Il primo elemento è l'algoritmo, che essendo segreto non è noto se non a chi invia e chi riceve, e eventualmente nell'utilizzo di una, o come vedremo, anche due chiavi. E quindi il processo complessivo di criptografia è rappresentato in questo disegno, dove in qualche modo metto in evidenza come tra il mittente e il destinatario, tramite gli algoritmi criptografici, si crea quello che viene chiamato un canale sicuro, cioè un canale in cui l'informazione viaggia ed è protetta dall'interferenza, dalla possibilità di lettura di soggetti terzi rispetto al mittente e al destinatario. Un algoritmo criptografico, io molte volte lo paragono in modo un po' semplicistico, ma credo anche efficace per farlo capire ai ragazzi, ad un frullino. Un frullino che riceve, come ben sappiamo, della frutta e poi tramite un algoritmo che è il motore, il meccanismo, produce qualche cosa che è ancora, contiene ancora gli stessi elementi di precedenza, la banana piuttosto che la mela, ma in un modo che è confuso e quindi non è riconducibile, riottenibile l'informazione di partenza. Ovviamente ottenuto questo ci vorrebbe anche, nella criptografia c'è, nella vita comune non c'è, o almeno fino adesso non c'è, un frullino che, o lo stesso frullino che in qualche modo prende il frullato e attraverso dei meccanismi che dovrebbero essere sostanzialmente gli stessi, se è simmetrico, a questo punto riproduce il materiale di partenza. Parliamo un po' di storia. La criptografia è vecchia come l'uomo. Qualcuno dice che è il secondo mestiere più importante nella storia dell'uomo. Non cito numeri, adoperavano la criptografia. Un passo fondamentale fu fatto da Giulio Cesare con il suo cifrario, il cifrario di Cesare, che ancora oggi è alle basi di moltissimi algoritmi. Poi voglio citare il Leon Battista Alberti, un architetto famoso che aveva il pallino della criptografia e che in qualche modo generò degli algoritmi che, pensate pensate, erano alla base di quella famosa macchina criptografica della Seconda Guerra Mondiale, per la verità fu inventata negli anni trenta, più o meno, che è l'Enigma, macchina utilizzata dall'esercito tedesco per cifrare i collegamenti informativi e che è stata poi decifrata da un famoso matematico Alan Turing, uno dei fondatori dell'informatica, durante la guerra e qualcuno sostiene che permise, fu uno degli elementi fondamentali per vincere la guerra da parte degli alleati. Come vedete lì, ci fu anche un famoso film di qualche anno fa, l'Imitation Game, che riportava tutta quanto la storia. Ma vediamo adesso di vedere con qualche esempio concreto come sono fatti gli algoritmi criptografici, quali sono gli elementi fondamentali che li costituiscono. Facendo anche un po' di storia, partiamo dal cifrario di Azbash. Nel libro di Geremia, nella Bibbia, si usa un semplicissimo cifrario per cifrare la parola Babere. Qual era l'algoritmo di cifratura? L'algoritmo di cifratura era sostanzialmente legato al fatto che io sostituivo la prima lettera dell'alfabeto con l'ultima, la seconda con la penultima e così via, come vedete nell'esempio indicato. Quindi l'algoritmo è un algoritmo di sostituzione monolfabetico che permetteva di sostituire ad un singolo elemento un altro elemento secondo una regola ben precisa che è quella che ho indicato. Dov'era la segretezza? La segretezza era nel conoscere la regola, la regola di sostituzione e quindi se io per caso venivo in possesso di questa regola o capivo questa regola, a questo punto sarei stato nella situazione di decifrare tutti i testi che adoperavano quello stesso algoritmo. Questo limite fu superato da Giulio Cesare in un cifrario di Cesare che introdusse il concetto di chiave, di chiave criptografica, in cui la segretezza non stava nell'algoritmo ma stava nella chiave e visto che la chiave la potevo cambiare con grande velocità, allora anche se l'algoritmo era noto avevo difficoltà a rompere l'algoritmo stesso, quindi a ottenere la chiave. Bene, l'algoritmo di Cesare come noto tutti è sostanzialmente un algoritmo che sostituisce una lettera con quella che è spostata di un numero fisso di posizioni, per esempio nell'esempio vedete tre e quindi la lettera A viene, se io avessi tre, viene sostituita a un B, C, D e così via e la chiave segreta è quel tre. In effetti Giulio Cesare cosa faceva? Radunava i suoi generali, si scambiavano la chiave segreta, si dicevano tre per esempio, dopodiché ritornavano in battaglia, i messaggeri portavano il messaggio cifrato ma né i messaggeri conoscevano la chiave né chi intercettava i messaggeri, l'asteris di turno, per cui la chiave permetteva di decifrare il messaggio. Ovviamente la chiave veniva cambiata velocemente in modo tale che anche se una chiave veniva intercettata, veniva scoperta, la volta successiva il messaggio non era più decifrabile. Qui c'è un semplice esempio in cui fa vedere come con l'utilizzo della chiave si ottiene il messaggio cifrato. Allora detto queste cose io voglio anche proporvi un esercizio. Proporvi un esercizio che è quello di scrivere un algoritmo e il relativo programma, se avete dimestichezza con un qualunque linguaggio di programmazione, per realizzare l'algoritmo di Cesare, un programma o un algoritmo che riceva ovviamente in ingresso una chiave che è un numero compreso intero, compreso tra zero e il numero delle lettere, quindi 26 nel nostro caso. Quello che abbiamo visto erano algoritmi di sostituzione perché prendevano uno o più elementi e le sostituivano con lo stesso numero di elementi secondo determinate regole. Ma le tecniche di criptografia si basano anche su tecniche di trasposizione in cui sostanzialmente io sposto i simboli e li sposto con delle determinate regole. Per esempio guardate questo esempio, c'è il mio nome e cognome e la chiave è due due. La chiave cosa vuol dire? Vuol dire che io devo prendere due elementi e spostarli di due posizioni, per cui io prima segmento il testo iniziale di due in due, ovviamente contando anche gli spazi perché lo spazio che si voglia dire è un elemento, è un simbolo. E a questo punto mi viene un testo cifrato che è quello in cui MA è spostato di due posizioni e quindi viene prima RC e così via. Ecco questi algoritmi qui si chiamano algoritmi di trasposizione. Il connubio degli algoritmi di sostituzione, degli algoritmi di trasposizione è alla base della maggior parte degli algoritmi criptografici attualmente in uso. Uno dei più famosi è quello che si chiama DES che tratta blocchi ovviamente di simboli binari perché lavora su stringhe binarie e che opera sia con trasposizioni che con sostituzioni. L'algoritmo è noto ma non sono note le chiavi e a volte un vettore di inizializzazione che adesso non stiamo qui ad approfondire. Allora per rendere più complicato la decrittazione da parte di soggetti non autorizzati la criptografia può essere resa più complicata. Per esempio io posso adoperare tre chiavi e mettere in cascata come vedete il tre algoritmi DES. Quindi il primo ha una chiave di 56 bit, il secondo di 56, un terzo di 56. Quindi io mettendoli in cascata rendo il processo molto più complicato perché il primo mi prende il testo in chiaro, mi fa un testo cifrato, poi prendo il testo cifrato, lo mando in un altro testo, mi fa un altro testo cifrato e la cosa così via diventa più complicata. Vi propongo un altro esercizio proprio perché anche voi proviate a generare questi algoritmi. Allora vi suggerirei di trovare un algoritmo per realizzare una criptografia che adoperi una tecnica di sostituzione e di trasposizione. Scegliendo voi nella vostra immaginazione, con la vostra immaginazione, una tecnica di sostituzione o una tecnica di trasposizione mettendoli insieme, facendoli compenetrare. Ne discuteremo evidentemente, se lo ritenete opportuno, al web seminar. Ecco perché abbiamo messo tre algoritmi DES uno dopo l'altro. Per avere una chiave più lunga. Perché? Ma vale quello che vale anche per le serrature meccaniche. Le serrature meccaniche, le nostre chiavi abituali. Più dentini hanno le nostre chiavi e più sono complicate da riprodurre o comunque più è complicata la serratura e quindi è più difficile da rompere la serratura o da introdursi in casa. E in effetti l'equivalente dei dentini della chiave sono i bit della chiave informatica. Quanto più sono i bit della chiave informatica, tanto più è robusto l'algoritmo o perlomeno è robusto, è difficile rompere l'algoritmo. Al giorno d'oggi più o meno noi siamo sugli algoritmi simmetrici, hanno una lunghezza di chiavi di 128 bit. Sugli algoritmi invece asimmetrici vedremo hanno lunghezza più lunga e siamo sui 1024-2048 bit. È ovvio che col passare del tempo e con l'aumento della potenza dei calcolatori bisogna andare verso algoritmi sempre più sicuri, sempre più difficili da rompere e quindi con chiavi che sono sempre più lunghe. qui vi ho riportato tanto per che abbiate un'indicazione di quali sono gli algoritmi che sono oggi più in moda, di moda e che sono adoperati in un contesto che vedete nella colonna applicazione tipica. Potete guardarli con attenzione per trovare un riscontro a volte a sigle che troviamo nella vita o nelle riviste. Qualcuno dirà sì ma fammi delle applicazioni. In effetti tenete presente che gli algoritmi simmetrici fino praticamente a metà degli altri degli anni 90, dell'altro secolo stavo per dire, anzi è vero è l'altro secolo, erano adoperati nel contesto sostanzialmente militare. Mentre invece con l'aumento dell'uso di internet, con il pagamento in rete, con l'automazione dei processi bancari sono diventati di uso comune. Uno dei casi più tipici è il Bancomat. Noi quando andiamo al Bancomat ebbene mettiamo in atto un processo che è un processo criptografico che permette di risalire dal numero di conto corrente che è scritto all'interno della banda magnetica o del chip della nostra carta e questo numero di conto corrente che non è segreto viene poi cifrato con un DES mandato ad un apparato hardware specifico che si chiama Hardware Secure Module cioè HSM che ricava in tempo reale il PIN con un algoritmo DES o con un algoritmo di un triplice DES e verifica se quello che noi introduciamo è corretto o non è corretto. Quindi tutte le volte che adoperiamo un prelievo, facciamo un prelievo da un Bancomat in effetti adoperiamo un algoritmo criptografico e senza di esso sarebbe molto difficile poter realizzare meccanismi tipo Bancomat. Molte volte noi dobbiamo memorizzare stringhe, password, PIN, codici segreti e troppe volte li scriviamo in un posto accessibile ai malintenzionati perché scrivere i PIN delle carte di credito e metterle su un foglietto dentro al portafoglio è un invito a delinquere per chi eventualmente ci ruba il portafoglio. Allora cosa si può fare? Ma per esempio, tanto per fare un esempio veramente di criptografia e vita comune, considerate il numero di Bancomat che io sinteticamente ho rappresentato come 1, 2, 5, 4, 3 e poi sceglietevi una chiave o se volete un numero segreto. Per esempio un numero di due cifre che è il numero civico in cui voi vivete, è un numero che comunque sapete bene che ricordarvelo non è un problema, mentre un problema è ricordare 1, 2, 5, 4, 3. Dopodiché potete sommare ad ogni cifra del Bancomat il numero, il vostro numero segreto, il numero che a voi è noto e a questo punto ottenete una nuova sequenza che così vedete. Questa sequenza è una sequenza che è segreta, che è segreta a chi la legge e quindi non è riconducibile direttamente al numero di Bancomat o comunque ad un PIN. Ma voi fate estremamente, in modo estremamente facile ripassare dalla nuova sequenza alla sequenza originale, perché se prima avete sommato adesso dovete sottrarla. Allora quella sequenza potete addirittura scriverla con un pennarello sulla vostra carta di credito, sulla placchetta di plastica. Ecco detto questo passiamo ad un tema che ha una certa rilevanza. Negli algoritmi simmetrici in cui la chiave di cifratura e la chiave di dicefratura è la stessa, bisogna che il emittente e il destinatario si scambino in qualche modo la chiave. Trovo in un momento Cesare faceva venire i suoi generali nella sua tenda, decidevano che era cinque e poi i generali ritornavano sul campo, ritornavano in Gallia. Quando volevano cambiare chiave ritornavano e cambiavano chiave. Però se voi comprate un libro in rete su Amazon o dove diavolo volete e volete pagare con la carta di credito non è che andate prima da Amazon a darvi il codice segreto con cui poi cifrate sulla rete. Quindi dovete trovare dei meccanismi in cui la distribuzione della chiave segreta sia agevole, sia in qualche modo possibile e compatibile col fatto che i due emittente e destinatario non si trovino fisicamente. Perché se così non fosse voi non potreste fare tutta una serie di operazioni di acquisto sulla rete. Questo problema fu risolto nel 1977 da tre ricercatori dell'MIT che si chiamano, si chiamavano, si chiamano perché sono ancora vivi, River, Shamir e Adelman e che a un certo punto smisero di essere professori universitari e fondarono una società che si chiama RSA, R da River, Shamir, S da Shamir e A da Adelman. Bene, loro inventarono sostanzialmente un algoritmo che permetteva di pagare in modo sicuro in rete distribuendo in modo sicuro delle chiavi. Ma vediamo adesso cosa vuol dire tutto questo. L'algoritmo è quello che si chiama un algoritmo asimmetrico che si basa sostanzialmente su due chiavi che vedremo una si chiama pubblica e una si chiama privata ed è tale per cui quando io cifro con la chiave nera come vedete lì io poi decifro con la chiave bianca e quindi sostanzialmente, saltiamo questa perché è troppo complicata, voi avete un algoritmo di criptografia chiamato a chiave pubblica in cui l'algoritmo è noto, quindi il segreto non è nell'algoritmo ma la segretetta sta nella chiave come nel cifrario di Cesare e in cui voi avete due chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. Cosa serve una chiave pubblica e cosa serve la chiave privata? Allora prima di ragionare su questo facciamo una piccola digressione su quali sono i principi matematici su cui si basano gli algoritmi asimmetrici. Gli algoritmi asimmetrici si basano sostanzialmente su due fondamentali elementi. Il primo sono le proprietà delle funzioni unidirezionali, cioè quelle funzioni in cui y uguale a fx, cioè dato un x, ricavare l'y a una bassa complessità, mentre invece la funzione inversa ha una complessità molto elevata, addirittura di tipo non polinomiale. Un caso molto banale, un esempio molto banale è l'elevazione a potenza come funzione di bassa complessità, perché se io come nell'esempio cerco di fare o cerco di risolvere il tema di 3 elevato a 4, bene, so facilmente che devo moltiplicare 3 per 3 per 3 per 3 e ottengo 81 facilmente. Ma se io a qualcuno di voi chiedo di dirmi velocemente qual è il logaritmo in base di 3 di 81 senza che voi sappiate del calcolo in precedenza, voi a questo punto vi trovate in qualche ambascia. Vi trovate in qualche ambascia perché la funzione inversa è estremamente più complessa computazionalmente rispetto alla funzione diretta. Prima considerazione. Secondo elemento, la fattorizzazione di numeri grandi con fattori grandi. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente, e noi sappiamo che c'è un teorema fondamentale dell'arimmetica in cui ogni numero intero ha una e una sola fattorizzazione in numeri primi e quindi il tema di fattorizzare un numero in numeri primi è un tema che ha una grande complessità. Questi due elementi sono alla base, sono la base matematica su cui si fondano gli algoritmi criptografici di tipo asimmetrico o a chiave pubblica. Il tutto poi viene complicato se invece di lavorare in un algebra tradizionale è lavorato in un algebra modulo. Ma vediamo al di là di queste premesse che cosa vuol dire. Prima però vi voglio porre un piccolo problemino e cioè quello di trovare un algoritmo e fare eventualmente la codifica dello stesso con un linguaggio di programmazione voluto, qualunque voi conosciate, per calcolare, per dato un numero, calcolare se n è primo. Questo se volete lo fate, ma torniamo a noi. Prima vediamo quali sono gli algoritmi a chiave pubblica. La radice di tutto sono quei tre signori e quindi l'algoritmo di riferimento ancora oggi è quello che si chiama RSA, che è un algoritmo brevettato da quei tre signori, i quali ovviamente sulla base di quel brevetto accumulano dei capitali non irrilevanti. Per superare il problema del brevetto fu individuato un nuovo algoritmo che viene chiamato DSA, ma che si basa su principi matematici sostanzialmente equivalenti al presente. Vediamo di descrivere in parole povere come funziona. Bene, abbiamo detto che l'algoritmo è basato su due chiavi, una chiave privata e una chiave pubblica. Ognuno ha una chiave privata e una chiave pubblica. Già la semantica dell'aggettivo dice che la chiave privata è quella che mi devo tenere in tasca, ben nascosta, la chiave pubblica invece è una chiave che posso distribuire. Allora facciamo l'esempio di Marco e di Giulia. Giulia è una delle mie figlie. entrambi hanno una chiave privata e una chiave pubblica. La chiave pubblica, proprio perché è pubblica, io la posso distribuire a tutti. Posso fare un pannello in cui appendo tutte le chiavi di tutti i soggetti che hanno una chiave pubblica e chi vuole quella chiave pubblica di Marco va lì nel pannello e prende la chiave pubblica. Scusate la metafora, tanto per dire, ma mi veniva in mente quegli esempi cinematografici in cui c'è il portiere dell'albergo che ha tutte le chiavi dietro e le preleva. La chiave privata invece me la tengo molto riservata, in tasca, dentro al mio computer, segretamente. Queste chiavi sono collegate a quella che io chiamo una serratura asimmetrica, cioè una serratura un po' strana. È una serratura che se io chiudo con una chiave, per esempio la chiave privata, la posso solo aprire con l'altra chiave. Quindi una chiave chiude e l'altra apre. Non è importante se chiudo prima con quella privata o con quella pubblica. Se però poi voglio aprire, devo adoperare la chiave diversa da quella con cui l'ho chiuso. Ecco, come si realizza la segretezza, quindi uno degli elementi fondamentali della criptografia. Quindi per esempio la trasmissione del numero, del codice, del PIN della carta di credito o in generale di un messaggio segreto. Io prendo il testo, lo metto nel cofanetto e la chiudo con una chiave. Quindi il messaggio va da Marco a Giulia. Marco ha tutte le chiavi, vuole mandare il messaggio a Giulia. Prende nel suo tablò delle chiavi la chiave di Giulia, la chiave pubblica di Giulia e chiude la serratura. Quella serratura da chi sarà aperta? Dalla chiave di Giulia pubblica che tutti hanno? No! Perché la serratura è una serratura asimmetrica. E chi potrà aprirla? Potrà aprirla solo chi ha la chiave privata, ma la chiave privata c'è la Giulia. Quindi l'unico soggetto in grado di aprire il cofanetto è Giulia, cioè il detentore della chiave brigata. Quindi il cofanetto viaggia, diciamo così, nel mondo in rete, ma nessuno, pur avendo tante chiavi, è in grado di aprirlo. Soltanto quando il cofanetto arriva a Giulia, lei prende la propria chiave privata e lo apre. E quindi abbiamo realizzato, come dire, lo stesso meccanismo di segretezza che era il meccanismo di segretezza, per esempio, del cifrario di Cesaro. Ma noi abbiamo bisogno, come abbiamo detto, di avere altri due obiettivi. L'autenticazione e il non ripudio. Allora, se noi vogliamo l'autenticazione, cioè vogliamo mandare un messaggio da Marco a Giulia e Giulia vuole sapere che effettivamente il messaggio è stato inviato da Marco, perché sull'etichetta c'è scritto proveniente da Marco, cosa posso fare? Allora io prendo il testo, l'informazione che voglio mandare a Giulia, la lettera che voglio spedire a Giulia, la metto nel cofanetto e lo chiudo non con una chiave pubblica ma con la mia chiave privata. Dopodiché, a questo punto, quando Giulia riceve il cofanetto, ha miriadi di chiavi pubbliche. Però lì c'è scritto proveniente da Marco. Allora prende la chiave di Marco e si danno solo due casi. O la serratura si apre, il che vuol dire che era stata chiusa da Marco, perché era stata chiusa dalla sua chiave privata, e quindi Giulia ha la certezza che il cofanetto e il contenuto dello stesso proviene da Marco, oppure non apre con la chiave pubblica di Marco, allora vuol dire che il mittente non era Marco. E quindi io ho un meccanismo di autenticazione e implicitamente di non ripudio rispetto a da dove è partito il messaggio stesso. Ma adesso, al di là di questa spiegazione, vediamo di darne gli aspetti un po' più matematici. Gli aspetti un po' più matematici sono legati al fatto che l'algoritmo di RSA si basa su un calcolo della funzione f uguale c elevato a k modello n, dove c è il testo che vogliamo cifrare, k e n sono la chiave pubblica o la chiave privata. Facciamo un esempio. Come si procede? Allora, si scelgono due numeri primi. Tenete presente che al giorno d'oggi gli algoritmi RSA adoperano numeri primi che sono fatti di 300 cifre decimali, quindi numeri molto grandi. Una volta che io ho individuato P e Q, determino il loro prodotto N, che chiamo modulo, perché poi tutto verrà nell'algebra modulo N. E valuto il prodotto che chiamiamo F di N, che è un prodotto non di P per Q, ma di P meno 1 per Q meno 1. Ovviamente, dato N o dato FN, la fattorizzazione è estremamente difficile, cioè trovare, risalire a P e Q è estremamente difficile, perché è la fattorizzazione di un numero nei suoi componenti primi. Si sceglie poi un numero E, che è coprimo e più piccolo di FN. Una volta che si prende questo numero E, si individua un numero D, tale per cui E per D risulti uguali a 1 facendo il modulo di FN. Facciamo un esempio numerico che è un po' più chiaro. La chiave pubblica è NE e la chiave privata è ND o viceversa. Ovviamente, la segretezza sta negli elementi che dicevo in precedenza. Facciamo un esempio. L'esempio è P uguale a 3 e Q uguale a 11. Il prodotto, quindi N, è 33. F di N è 2 per 10 fa 20. Scelgo E7 coprimo con 20. E a questo punto calcolo D facendo E per D che fa 21, modulo 20 viene 1. Quindi abbiamo che la chiave privata è 33 e 3 e la chiave pubblica è 33 e 7. Se io avessi un messaggio, per esempio 15, e volessi cifrarlo con la chiave privata, io a questo punto devo realizzare la relazione che è lì indicata, e quindi M elevato a D modulo N che fa facendo i calcoli 27 e ora prendiamo 27 e vediamo di applicare adesso l'altra chiave in modo tale da ritornare al numero di partenza. Se noi facciamo C elevato a D modulo N, a questo punto abbiamo 27 elevato a 3 modulo 33 che fa 15. Quindi sostanzialmente abbiamo decifrato correttamente il nostro messaggio. Come esercizio lascio a voi di individuare una chiave privata e una chiave pubblica, prendendo dei numeri primi piccoli, e di decifrare un messaggio che è 13, 22 e 09. Come faccio a pagare in rete? Bene, per pagare in rete a questo punto mi serve un meccanismo che è un canale sicuro su cui io far viaggiare la mia carta di credito. Allora vediamo come con la chiave simmetrica, con l'algoritmo simmetrico posso fare. Quando noi vogliamo comprare qualcosa, vogliamo pagare, il server remoto si genera una chiave pubblica e una chiave privata e ci trasmette in rete la chiave pubblica. Proprio perché è una chiave pubblica a questo punto è nota a tutti, può essere significata da tutti, ma non è importante, è per definizione semanticamente pubblica. Dopodiché io prendo la chiave pubblica e cifro con la chiave pubblica il mio PIN, la sequenza della mia carta di credito. A quel punto mi diventa un cofanetto, una busta che passa sulla rete, è osservata da tutti, ma da nessuno che non possegga la chiave privata può risalire al codice, al PIN che io ho. E quindi soltanto quando quel messaggio arriva al server, il server avendo la chiave privata, può effettivamente decifrare. In questo modo si riesce a rendere segreto una sequenza inoltrandola su internet che è per definizione una rete insicura. Questo lo lasciamo. Facciamo un confronto fra gli algoritmi di cifratura simmetrici e di cifratura simmetrici. La cifratura simmetrica è molto più veloce, però ha dei problemi, molto più veloce computazionalmente, quindi i programmi fanno in fretta. La chiave è più corta, ha meno bit e quindi è ancora più veloce. La cifratura simmetrica richiede invece più tempo computazionalmente, ma mentre la cifratura simmetrica è critica nella distribuzione delle chiavi, perché la chiave è una sola, la cifratura simmetrica permette di garantire la riservatezza, la segretezza all'interno di un meccanismo che è un meccanismo di codifica asimmetrica. Parliamo due momenti velocemente della firma digitale. Firma digitale? Innanzitutto dobbiamo introdurre un concetto che è quello che io chiamo il bignami digitale. e cioè l'hash, l'algoritmo di hash. Il tema è se io ho un messaggio, voglio trovare una sorta di impronta di quel messaggio, quindi una sequenza ridotta di bit che mi individui se qualcuno ha modificato il messaggio che io sto trasmettendo. Questo meccanismo, che si chiama un meccanismo di hash, è sostanzialmente un numero di un limitato numero di cifre, nella realtà sono 160 bit, ma stiamo parlando di 160 bit applicati anche a documenti di giga, che sono ricavati. Dato un documento, si può ricavare, mediante l'algoritmo di hash, questa sequenza, e questa sequenza permette sostanzialmente, se io vado a cambiare un solo bit del documento originale, di modificare l'hash. Quindi è un meccanismo tale per cui, se io ho due testi uguali, l'impronta è sempre la stessa, l'hash è sempre la stessa, se i due testi sono diversi, l'impronta è diversa. È diversa con una buonissima probabilità, non c'è certezza, ma la probabilità è legata a 1 fratto 2 elevato a n con il numero dei bit del digest. Vi porto un esempio, guardate per esempio questa sequenza, the quick brown four jumps, eccetera eccetera, e guardate la seconda, sotto avete il digest, vedete che io tra la prima e la seconda ho cambiato solo la D di dog con C, e la sequenza di hash è cambiata, quindi cambiando una sola lettera cambia. Questo qui, perché è utile nel meccanismo di firma elettronica? Bene, perché mi garantisce l'integrità, cioè dato un messaggio, se io trasmetto quel messaggio e gli accodo il digest, chi lo riceve, se il messaggio è stato cambiato, vuol dire che il digest è diverso. Per evitare che il messaggio venga cambiato e cambia anche il digest, bisogna rendere il digest robusto. Per fare questo si cifra il digest, e quindi la firma digitale è sostanzialmente un meccanismo che viene rappresentato dalla figura che vi mostro in questo momento. Io ho dei dati da firmare, questi dati da firmare sono prelevati da un file, viene calcolato il digest, questo digest viene cifrato con la chiave privata, viene inviato il documento con il digest cifrato, chi riceve il documento si calcola il digest, poi decifra il digest che riceve, con la chiave pubblica, che essendo pubblica ce l'ha, confronta le due impronte, se le impronte sono effettivamente uguali, io ho la certezza che quel documento è stato firmato dal possessore della chiave privata. Quindi sostanzialmente io ho un testo e col meccanismo di hash firmato con una chiave privata ho l'integrità del messaggio, ma anche la garanzia del mittente e il relativo non ripudio. Ecco detto questo dobbiamo chiudere la nostra conversazione parlando un po' di criptomonete e parliamo di bitcoin. Le origini del bitcoin sono del 2008 e fu un'invenzione di un personaggio Satoshi Nakamoto che peraltro probabilmente è uno pseudonimo non risolto ancora attualmente. Il bitcoin è stato introdotto come la prima moneta elettronica, la prima criptovaluta, ha avuto un'impennata di valore, non di coste, di valore e al giorno d'oggi vi ho riportato nei giorni ultimi che ha raggiunto il valore di circa 50.000 euro. Le criptomonete, non solo i bitcoin, si basano su un algoritmo che si chiama blockchain o DLT che sta per Distributed Ledger Technology, cioè tecnologia del Libro Mastro. E sostanzialmente questa tecnologia che oggi è utilizzata anche in contesti diversi dalle criptovalute, per esempio nelle assicurazioni, è un meccanismo informatico basato su algoritmi criptografici che permette di tenere traccia in modo indelebile, continuativo, delle transazioni informatiche, transazioni finanziarie che sono tutte quelle transazioni che sono legate a rapporti di fiducia come i contratti commerciali. È basata su delle tecnologie ma realizza, si basa in qualche modo sui concetti di comunità, di responsabilità, di decentramento e di controllo distribuito. Le tecnologie che sono alla base del bitcoin o se volete della blockchain sono quattro tecnologie criptografiche. L'hash che abbiamo visto, la firma digitale, il market tree che è una tecnologia che è legata all'hash che permette sostanzialmente di conoscere se un database è stato modificato, quindi di dare coerenza ad un database e un algoritmo di consenso. Per capire cosa il Satoshi Nakamoto voleva fare con i bitcoin bisogna capire quali sono i presupposti fondamentali delle valute tradizionali. Le valute tradizionali si basano su tre elementi. Chi cede una moneta ne perde il possesso. Se io ho 50 euro e lo tolgo dal mio portafoglio e lo do a qualcuno, quei 50 euro passano in possesso diretto a quel qualcuno e escono dal mio portafoglio. Io non ne ho più la disponibilità. Esiste un'autorità centrale, le banche centrali, che emettono e garantiscono il valore della moneta ed esistono poi una serie di banche che controllano le transazioni finanziarie. Per cui sono loro garanti che se io faccio un bonifico a qualcuno quel bonifico vada abbia successo. Bene, nel mondo digitale soprattutto il primo elemento non è più vero. Vi faccio un esempio semplice. Pensate di avere un file di fotografie sul vostro pc e di trasferire questo file di fotografie ad un vostro amico. Bene, il file di fotografie trasferisce al vostro amico ma non è che sparisce dal vostro computer. Rimane sul vostro computer. Allora, quel meccanismo che abbiamo di trasferimento di file è un meccanismo che non va bene per trasferire denaro perché se io ho 50 euro virtuali su un file del mio computer quando li trasferisco ad un altro non è che quel file sparisce dal mio computer per cui quei 50 euro sarebbero sul computer dell'altro ma ancora sul mio e questo non è compatibile con le regole fondamentali che basano le monete. Invece dobbiamo trovare un meccanismo informatico che quando io trasferisco i 50 euro quei 50 euro non siano più in mio possesso ma siano in possesso dell'altro soggetto. Bene, Satoshi Nagamoto ha inventato la blockchain per risolvere sostanzialmente questo problema. In più lui era un idealista e quindi non voleva una banca centrale cioè un'unica realtà che controllava in modo gerarchico tutto il mercato delle monete e che controllasse tutte le transazioni ma in un mondo ideale lui dice mondo ideale che poi visto che i bitcoin ci sono è anche un mondo reale dice il controllo deve essere dato al popolo della rete basta le banche siamo noi i soggetti della rete che dobbiamo garantire la correttezza delle transazioni perché noi mediamente siamo persone che sono corrette e allora devo trovare un meccanismo tale per cui effettivamente il controllo del passaggio del denaro sia un controllo pubblico un controllo distribuito un controllo fatto da tutti i soggetti e per fare questo lui inventò il concetto di legger di libro mastro cioè tutti hanno nella rete il libro mastro che è incancellabile indelebile immodificabile ed è il libro su cui sono contenute tutte le transazioni legittime e poiché questo libro mastro ce l'hanno tutti i soggetti tutti i soggetti possono vedere quello che capita e quindi possono controllare tutte le transazioni il registro è presente su tutti i nodi della rete ed è immutabile come perché è immutabile perché ogni transazione è legata ad un'altra a tutte quelle precedenti mediante un meccanismo di hash per cui se qualcuno vuole artatamente modificarlo cambia l'hash ma se cambia l'hash a questo punto il mio libro mastro non è più uguale a quello degli altri e gli altri se ne accorgono e quindi come avviene il meccanismo cioè supponete che A voglia inviare del denaro a B allora per fare questo A invia la richiesta sulla rete di inviare denaro a B 50 euro per fare questo lui adopera la firma digitale cioè firma con la chiave privata e quindi effettivamente è proprio A colui che sulla rete dimostra di essere di avere la volentà di fare la transazione poi il tutto viene inviato sulla rete e a questo punto bisogna cambiare un libromastro e cambiare il libromastro di tutti perché bisogna aggiornare tutti come si fa a fare questo si fa sostanzialmente con un algoritmo di consenso l'algoritmo di consenso è un algoritmo che sostanzialmente la transazione qui l'abbiamo vista l'algoritmo di consenso è un algoritmo che in modo statistico stocastico sceglie a caso una persona e affida a quella persona la responsabilità di validare la transazione e di scrivere il libromastro che poi lui andrà a inviare il fatto che sia statisticamente improbabile che sia sempre lo stesso farlo fa in modo che non ci sia un'autorità centrale e come avviene questo per esempio nei bitcoin con un algoritmo cioè di sfida cioè viene una volta fatta richiesta una transazione messo in rete un problema matematico complesso questo problema matematico complesso viene sottoposto a tutti il primo che è un fatto casuale che riesce a risolverlo perché è un algoritmo trial and error cioè un algoritmo a tentativi quindi chi riesce quello diventa in quel momento il soggetto che può scrivere l'algoritmo di consenso essendo computazionalmente complesso richiede della capacità computazionale questa capacità computazionale permette di risolvere l'algoritmo chi risolve l'algoritmo come ho detto ha la capacità di validare e di generare il nuovo il nuovo libro mastro questo è fondamentalmente il concetto su cui si basano i bitcoin che come avete visto anche se il tempo è tiranno è basato su algoritmi crittografici e quindi possiamo ben dire che ora nel mondo digitale nel mondo di internet nel mondo delle criptovalute lo zoccolo dure algoritmico di tutto questo è la criptografia che a sua volta si basa su quei concetti fondamentali di fattorizzazione dei numeri primi e di funzioni con difficoltà a essere invertite grazie buona giornata e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti